11 punti per disegnare il nuovo bando della città di Como per gli eventi di Natale. Alessandro Rapinese, capogruppo in consiglio comunale della lista che porta il suo nome, ha incontrato l'assessore al commercio Marco Butti per un confronto su uno degli argomenti che in questi anni ha fatto più discutere il capoluogo, l'Ariano. Subito dopo la chiusura dell'ultima edizione della città dei Balocchi, l'assessore e lo stesso sindaco Mario Landrescina avevano aperto ad una consultazione delle forze politiche e delle categorie economiche, finalizzata proprio alla stesura di un bando che eliminasse le molte criticità emerse negli ultimi anni. L'assessore Butti ha detto Rapinese al Corriere di Como, mi ha contattato ed invitata ad un incontro nel quale discutere e dare suggerimenti per il prossimo bando relativa agli eventi natalizi. Ho accolto volentieri questi inviti e mi sono presentata all'appuntamento con 11 proposte. Rapinese ha chiesto, tra le altre cose, che il bando sia annuale e plurimo, che gli organizzatori depositino con il bilancio tutte le fatture che gli eventuali utili delle manifestazioni siano devoluti in beneficenza, che nessuna impresa possa affittare più di una casetta del mercatino e che ciascuna faccia un rendiconto dei suoi costi ricavi, che per le stesse casette sia data priorità ai commercianti di Como tramite un bando, che gli oneri per i piani della viabilità e della sicurezza siano a carico degli organizzatori e infine che la manifestazione torni ad avere come punto focale i bambini. Grazie a tutti.